Io non posso che essere contento della vittoria del Palermo perché tifo Palermo per i playoff e l'ho detto dall'inizio Però ragazzi quanto sono contento di vedere questi giocatori e quei sitifosi esultare Perché davvero quello che hanno passato loro negli ultimi anni tra sali e scendi Cessioni dei grandi giocatori, acquisiti dei giocatori scarsi, serie B, cedo non cedo, vendo non vendo, fallimento Rischio di fallimento, veramente non lo sa nessuno, io auguro al Palermo di tornare subito in serie A Detto questo ragazzi la Gumina, la Gumina, la Gumina come si dice, la Gumina è un cazzo di fenomeno Io voglio assolutamente che la Roma butti un occhio su questo giocatore, butti un occhio su questo giocatore Fra l'altro l'anno prossimo gli tornerà anche Lofaso se non vado errato al Palermo che la Fiorentina non lo riscatterà Saremo a vedere ma ragazzi la Gumina è veramente un filo, guardo giocare a pallone Credo che davvero sia uno di quei giocatori che farà strada Cioè al di là di tutto no, in Italia si parla tanto di giocatori quali magari Belotti che è molto forte Ma io vedo la Gumina che è arrivato prima dei Belotti Cioè quello che Belotti magari ha fatto a 20 qua, a 23 anni, quant'anni c'ha adesso Belotti La Gumina già lo fa, con un tocco la butta dentro ragazzi La Gumina credo sia un cavolo di fenomeno Prendiamo sto la Gumina, Roma mia, piasti 8, 9 milioni, quanti chiederà Zamparini E prenditi subito la Gumina, lascia glielo in prestito Ma prenditi la Gumina perché è un cazzo di fenomeno È un fenomeno ragazzi, è fortissimo È clamoroso ogni volta che tocca Ma poi si vede per come si muove in campo eh Si vede per come si muove in campo Poi magari tra un anno parleremo di un giocatore scarso Ci sta, può capitare Giacatori salgono, giocatori scendono, ci sta Però ragazzi per come si muove in campo si vede che è un giocatore fantastico Fantastico, ogni volta che arriva un pallone tra i piedi Lo butta dentro con una naturalezza veramente clamorosa E qualcuno si deve svegliare a prenderlo Prima che davvero poi lo prenda qualcuno di più grosso Io spero che la Juventus non faccia prima di noi Perché davvero la Juventus ora lo adocchierà subito I vari giocatori magari quali Barrow per dirne un altro Che comunque hanno fatto già vedere qualcosa Perché Barrow adesso è sulla bocca di tutti È la Gumina che da un anno salva il Palermo o no? Perché anche oggi giocano vicino la Gumina e il Nestorowski Perché la decide la Gumina e non il Nestorowski Con tutto rispetto per il Nestorowski Io ragazzi voglio la Gumina, io voglio la Gumina Fra l'altro Frosinone che fa un ottimo Oh ragazzi ma Ciano, ma che gol ha fatto Ciano Che gol ha fatto Ciano Per tutti quelli che non hanno visto il gol di Ciano Io vi invito ad andare a vedere, a cercare Palermo Frosinone Highlights e guardarvi il gol di Ciano Ragazzi, ragazzi io non so che No davvero io non so che dire Perle del genere non se ne vedono mai Davvero tanta tanta roba Oggi non hanno espulso nessuno I playoff ragazzi oggi stranamente Non hanno espulso nessuno Voi per chi tifavate Palermo, Frosinone Fatelo sapere con commento qua sotto Il Palermo vince 2 a 1 Adesso ci sarà il ritorno Il Frosinone dovrà vincere con qualunque risultato Per passare il turno Per andare in Serie A Al Palermo basterà il pareggio O anche la vittoria quindi O vince il Frosinone e vai in A O il pareggio ne vince il Palermo E il Palermo vai in A Io dico Palermo Però anche il Frosinone non mi dispiace Però dico Palermo Voi per chi tifate Fatelo sapere con commento qua sotto Iscriviti al canale adesso Se vuoi che per il prossimo commento Le farò un sacco Un sacco Un sacco Un sacco De post partita Scusate se sono nella vecchia location Però ragazzi Oggi non sono allo studio Vi ringrazio per la visione Buon scelalala E noi come sempre Ci vediamo al prossimo video